L'allarme è stato lanciato dai sindaci di Milo, Sant'Alfio, Santa Venerina, Giarra e Zafferana e Tenea. Rischiamo di fallire e di non poter più erogare i servizi essenziali, hanno spiegato. I comuni hanno affrontato spese straordinarie per ripulire le strade e gli edifici pubblici dalla cenere dell'Etna e garantire la sicurezza dei cittadini e adesso temono il tracollo, problema che ha riguardato anche i privati. Per ripulire tetto e grondaie di una villa, per esempio, bisogna spendere almeno 500 euro. Il sindaco di Milo, Alfio Cosentino, ha detto che la sua amministrazione ha già impegnato 300 mila euro. Alcuni interventi hanno carattere di urgenza. Le strade ricoperte di cenere sono pericolose per i motociclisti, in particolare il rischio di cadute è enorme. La protezione civile aveva assicurato lo stanziamento di 5 milioni di euro, ma i sindaci hanno lamentato che di quella somma non è arrivato un solo centesimo. E all'orizzonte c'è un altro problema da risolvere, quello dello smaltimento delle tonnellate di cenere. Le aree provvisorie in cui finora sono stati depositati i sacchi sono stracolme.